Musica e il Grax compare! Ciao ragazzi sono Grax e bentornati su Brawl Stars e quest'oggi si finalmente ci siamo! Dopo anni! Me l'avete chiesto tutti! Stavolta regà lo dico, me l'avete chiesto tutti? Grax perché non giochi il Corvo? Perché aspettavo questo giorno per comparire dal nulla e giocare per la prima volta insieme a voi Corvo grado 0, livello 1, mi sembra di si quanto è grado 1, grado 0, vabbè comunque livello 1, nuovo brawler in sopravvivenza in singolo Cosa succederà? Sinceramente non lo so, io vi consiglio di seguire tutto quanto l'episodio, vi chiedo subito un mega pollicione all'insù Minimo 7 like, 7 like se può fare credo sia onesto, iscrivetevi a te la campanella, come sempre codici Grax perché se non erro dovrebbe già essere uscita la signorina Piper nel negozio Sostenete Grax, taggatemi su Instagram che vi riposto, conto su di voi Tra l'altro questo video dovrebbe uscire sabato dopo San Valentino, quindi questo pomeriggio, questa mattina, non so l'orario Su questo channel dovrebbe esserci la streaming del torneo di Brawl Stars in collaborazione con ESL e Lega Basket Serie A Seguitemi su Instagram, Instacrax che vi darò aggiornati su tutto quello che riguarda questo mega torneo Migliori team italiani, quelli che abbiamo castato insieme a Neemossetti durante le serate del torneo pomeriggio, ve li ricordate? Seguite il canale YouTube, ma soprattutto Instagram perché vi metterò gli swipe appini, cose eccetera Ci divertiremo, fidatevi È il momento di andare a selezionare Sovrevenze in singolo Chill Dov'è il Corvus? Musical Grax scompare Stavo scherzando Musica e il Corvus compare Bello regà, grado 1 Zero coppe, livello 1 Lo metto, lo proviamo A livello 1 Poi dopo lo potenzio Anzi, già che ci sono regà, faccio pure una cosa No, la faccio dopo Prima andammo a fare una partitella Dai, ci abbiamo anche i succhetti Avvelenerò tutti quanti col mio veleno Super zuccato Corvetto sulla destra Oh maronna regà Bono come il pane sto spot Però certo, a livello 1 faccio 640 Tre anni mi prende una cassa regà Mi sento un po' scarso C'ho il veleno di Ekans Ma che è? Questi mi hanno fregato già tutti Sì, me l'hanno fregato 8 bit me devasta Occhio a Felipe Luis Maronna regà Felipe Luis Maronna ragazzi Felipe Luis Fermi tutti Io intanto mi prendo al volo sta cassetta Ok Bella per te Presa Pulita E se riuscisse a prendermi addirittura il succo Potrei provare a fare la mia prima kill con il Corvus Regà pronti? Prima kill Con il Corvetto Ecco, sono l'unico Corvo nella sua assistenza Aver pushato Corzucco Senza portare a casa neanche la kill E invece Grax Se kill è il primo Il primo Il primo Il primo, il primo Ho detto bene Sì, è un gioco di parole un po' particolare Con il succo Vinco forse con una kill sola? Una kill è lauro? Me ne frego Me ne frego Se il Corvetto è di livello 1 Andiamo subito a prendere l'altro partecipante Che non so dove sia Oh, l'8-bit iniziale Felipe Luis Era un segno dell'intestino, Felipe Buono Felipe, fermate Che ti venga a prendere un po' succato Non ci prova mai, Felipe Non ci prova mai, Felipe Il primo jump della storia Musical, Grax scompar Più 10 Molto bello questo Più 10 Ok Fatto subito il grado 2 Quindi possiamo tranquillamente portarlo a livello 2 Lo facciamo, ragazzi, in maniera molto, molto easy Ma penso di farlo subito Ma famolo serio Prima però devo fare una cosa Perché Me la porto dietro da un sacco di tempo Ovvero No Tara a livello 7 Ma Ems a livello 7 Ems a livello 7 Ce l'aveva ancora a livello 6 Ed era l'unico a livello 6 Il resto sono tutti a livello 8 Pronti per diventare gold Alcuni a livello 7 Pronti per diventare livello 8 Nella parte bassa Mortis Di livello 7 Minimo E andiamo di Corvo Non so fino a quanto Maronna ragazzi Corvo arsei Eccolo Averli tutti al 7 Corvo arsei E una cosa incredibile Che ora da qualsiasi baule Che apriamo Grax trova Corvo O Bea Prima o poi maxeremo anche loro E poi ci sarà solamente oro Via Altra partitozza Vediamo come va Adesso abbiamo un Corvo Di livello 6 Un po' più tosto Un po' più tossico Possiamo dirlo Perché si fa più danno Interessante Cioè nel senso Fa un sacco di veleno Vediamo un po' Sbam Musica E vabbè 100 100 De tossine E vabbè Zio Parliamo di un Corvetto Non male Mi piace sto Corvo Mi piace ragazzi sto Corvo 120 Ovviamente con Un double power ups Ci perdiamo anche il terzo E sicuramente Nick vuole prendersi Il mio pelo Ma il mio pelo Ha un valore Le pellicce di Corvo Se le fa solamente Grax Ora Prendo il succo E andiamo a giampare Sulla faccia di qualcuno Voglio jumpare con gli artigli Maronna raga Libido in assoluta Ma che è oh Ecco Bella cavolata dei Grax In realtà Non so che cosa sia successo Sto giocando a caso Perché non ho mai giocato Corvo Nel mio account Ma è riuscito Un 10 power up Bello E quanto faccio De tossine adesso Cioè se tacchiappo Maronna ragazzi Che veleno C'è un Una vipera suprema Oh no 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 Zoe Scusate il jump Regà ma E che me prende un colpo Non so capace a giocarlo 13 power up Partita abbastanza veloce E ora 13 power up Più succo Quanti danni facciamo Io non so immaginare Quello che succederà Con Spike Non Mr. P Vediamo un po' Bella peant Ho staccato Bam Ma come non l'ho preso Au Non li vedo 430 Prendi il bersaglio Del Corvo Grax Win Altre 10 Continuiamo Come abbiamo fatto Con Bea Il push iniziale Di Bea È stato un po' Più dirompente Perché l'avevamo Già A livello 8 Corvo è un pochino Più basso Avere Corvo Max è tanta roba Speriamo di trovare Lo prima possibile Ma io voglio Noi brawler Ma anche la star power Ma anche la star power di 8 bit Occhio a Yousef Il problema di Corvo È che ci mette un bel po' A prendere le casse Cioè bisogna mettersi lì È molto forte anche in duo Quindi in duo faremo delle cose Finalmente Lo posso utilizzare La c'è Ems Non l'ho presa Eccola Ems contro Carletto Fer Colpita Ems La ulti Un bel po' Credo Vero che la ulti Te la dà nel tempo Occhio al bo Occhio al bo Attenzione al bo Pay attention E immaginavo Regà Immaginavo Bravo bollo Grax Non se gioca così Devi essere più concentrato Più uno Non ho neanche droppato Con calma Ora facciamo un più 10 Musica Grax è morto Musica E Grax è morto Allora Stesso spawn dell'inizio Pensavo di killare quel bo Invece non ce l'ho fatta Ragazzi Mi è colpa Grax Di prendertela molto più safe Soprattutto Accumulare un sacco di power up In questa mappa Perché poi col succo Ta 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 Devastamo tutti Aia Non cercare la fight A meno che Il signor Matti Sia così matto In realtà Quando puscio Ems Regà lo sapete meglio di me Dovrei pusharla E non indietreggiare Perché nel momento In cui vado ad indietreggiare Ems Mi fa più danni Oh Fermi che adesso Cominciamo a divertirci Fermi ragazzi Che adesso Ergrax Se diver No Ehi Ehi Carmi tutti Ok Dopo quello stun C'è qualcuno di morto qui O no Ma che aspeto ho fatto A perdere la partita Prima che questi Stanno a giocare Veramente coi gomiti Nita Prova il push Nella puzza Ok Nita si prende Un 190 Beccate sto 360 Easy Non lo so Dove l'ho visto il 360 Regà non me lo chiedete Io spacco una candela Perché con Corvo Lo possiamo fare Dynamics Tirami il bombone Daina Io te lo Jumpo il bombone Musical Dynamics Compare Wii Più 10 Molto bene Tiri di farne Un'altra E dittare Il grado 5 Secondo me si può fare Mi piace questo Corvo Ma dobbiamo potenziarlo C'è un Blatt Ma ancora i Blatt ci stanno Ancora vanno le mode Blatt Ho capito che ci stanno 10.000 GX Ma ormai siamo il team Più potente Questo è un dato di fatto Ragazzi E' pieno di GX Questo game Attenzione Vai che la cassetta va giù Primo power up di Grax Jesse sta Praticamente Intanto mi si stava il microfono Perché sta troppo alto Sulla parte di sinistra E sinceramente Non mi gusta andare verso Jesse Perché mi fa troppi danni Soprattutto Con un solo power up No Jesse Jesse No 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 Assolutamente no Jesse Assolutamente no Jesse Schiva tutto Grax Eh me lo immaginavo Eh vado a crepare Vado a crepare Vado a crepare 33 Potrei anche fermarmi qui ragazzi Perché è una data un po' particolare Ma faccio gioco ancora Perché non posso lasciarvi senza una win Io Ho visto quella Jesse Ero sicuro di morirci E ci sono andato Di nuovo Jesse Vediamo se viene a darmi fastidio Perché Volete La morte Di un piccolissimo corvetto Che vi fa il pollicione all'insù Cioè Vi uccide del corvetto Chi c'è? Nessuno Vi fa il pollicione all'insù Eppure me lo state ammazzando Andiamo sulla destra Ci prendiamo ragazzi Ragazzi al volo Air power up E stavolta Mi sento Marco Perché in teoria Questo va giù per i danni nel tempo Ehi 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 Buono air power up Che ha spawnato dalla mia parte Sì Ma è così Gail No Non mi direi che questo Ha sbagliato il nickname Ragazzi Voleva scrivere Gianluca E ha scritto Gainluca Gainluca Non ci credo mai Per me è uno scherzo Cioè Ti adoro Se l'hai fatto Davvero Fatemi riprendere Regà Ok Air pane su Jesse Musica E Jesse scompare Yolama Yolama Ha killato una Ems Qua c'è un carletto E qua c'è stanno ascelli Bella per Mario Mi sento Mario Mi sento Mario Devo killare ragazzi Esattamente Quelli che mi hanno rovinato il video Jesse l'ho killata Mi manca solamente bo Devo Assolutamente Strappare Un succo Without De succo Non posso fare niente Ma anche senza succo Grax la vince Tre vittorie Due partite De schifo Ma perché non lo so giocare Grado 5 Credo quasi mezzo Io ragazzoli vi ricordo Un pollicione Gli iscrizione Attiva la campanella Fate gli abbonamenti Come il signor Gab Che ringrazio Codice Grax Non lo shop Se volete shoppare Una skin meravigliosa Di San Valentino Con sto 150 gem Ovvero Piper Seguite Youtube E ovviamente Instagram Per quello che riguarda Il torneo di Pesaro Vi aspetto in live Vi mando un mega bacio Noi ci becchiamo Al prossimo episodio Forse domani E le live Credo torneranno Lunedì Un bacio da Grax Ciao bellissimi Vi voglio veramente bene Da Grax E dal Corvo Che vi chiedo un like Musica e Grax scompare E dal Corvo Grax E dal Corvo